De Luca smentito dalla cinica burocrazia regionale, afferma Pietro Antonacchio, segretario generale della CISL-FP di Salerno, che oltre ad essere scorretta, dubita ciecamente delle competenze delle organizzazioni sindacali. Infatti ad una chiara richiesta da parte del presidente De Luca di quantificare un fondo di risorse aggiuntive regionali per premiare i lavoratori sanitari che stanno contribuendo a combattere e stroncare qualsiasi pericolo di diffusione dell'infezione nei nostri territori, i tecnici di Palazzo Santa Lucia provano a spacciare le quote previste dal governo nel Decreto-Legge 18-2020 di Euro 23.288.000 come integrazione di premialità per il settore sanitario pubblico. È l'ennesimo tentativo di blef cui siamo abituati, anche se questa volta, oltre ad essere pacchianamente sgamati, stanno segnando un passo in avanti sulla misera considerazione che nelle stanze del Palazzo hanno di tutti gli operatori sanitari campani. Infatti spacciare le quote che il governo ha stanziato per la remunerazione di lavoro straordinario del personale dipendente delle aziende sanitarie e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale è una scelleratezza senza uguali. E se a tutto questo si evidenzia quale considerazione hanno all'azienda universitaria ospedaliera di Salerno del personale precario assunto per l'emergenza Covid-19 a cui rifiutano le istanze di utilizzo delle graduatorie costringendoli a rifiutare i contratti a tempo indeterminato in aziende del Nord, allora la misura è colma. Purtroppo ciò che dice De Luca viene sempre smentito. Queste le parole di Pietro Antonacchio che conclude, la colpa più grave di De Luca, non aver mandato al diavolo alcuni burocrati regionali che hanno fatto il loro tempo e sostituirli con quanti sappiano in gravi momenti non perdere la testa, anzi usarla con intelligenza, umanità e buonsenso.